A questo punto cambiamo argomento, ci spostiamo come vedete sui dati che riguardano il Veneto, in particolare dati che sono stati elaborati da Vega Engineering di Mestre sulla base dei dati INAIL sui primi quattro mesi del 2023. Parliamo ovviamente di sicurezza sul lavoro. Dunque si parla di 22.512 denunce di infortunio su un totale di 187.324, vale a dire oltre il 12% di quelle rilevate in tutto il paese e che queste 22.512 riguardano il Veneto dopo quattro mesi e per questo la regione è ancora sul podio dell'emergenza morti sul lavoro. Sia per il numero di vittime sia per le denunce di infortunio in modo totale. Una proiezione tragica che parla di 29 decessi da gennaio ad aprile, dei quali 23 in occasioni di lavoro e 6 in itinere. Sono 22.512 denunce di infortunio su un totale di 187.324, vale a dire oltre il 12% di quelle rilevate in tutto il paese, tant'è che il Veneto è secondo in Italia per numero di vittime dopo la Lombardia ed è il terzo per numero di denunce totali dopo la Lombardia e l'Emilia Romagna. La lettura dei dati del primo quadrimestre colpisce Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio di Sicurezza sul lavoro di Vega Engineering, che evidenzia una mappatura di poco sconfortante per la regione. Per definire ancora meglio la situazione dell'insicurezza sul lavoro in regione, l'Osservatorio Mestrino ha elaborato una mappatura del rischio rispetto all'incidenza della mortalità. Da circa 14 anni infatti studia il rischio di infortunio sul lavoro e da tre anni di vita di dagli accolori alla stregua della mappatura utilizzata durante l'emergenza pandemica ed è proprio da quest'analisi che arriva il dato più sconfortante per la regione come appunto evidenziato da Mauro Rossato di Vega Engineering. La zona arancione, quella in cui è entrato il Veneto a fine aprile 2023, è la zona che dopo la rossa raggruppa le regioni con l'incidenza di mortalità sul lavoro tra le più elevate a livello nazionale. In sostanza a fine aprile 2023 il rischio di infortunio mortale in Veneto, 10,7 morti per milioni di occupati, risulta comunque superiore rispetto alla media nazionale che invece è pari a 9. Nel dettaglio poi ci sosseguono le province Venete che si trova in zona rossa, Rovigo con 21,5, Verona 19,2 e Treviso 13,2, notevolmente più alte dunque rispetto alla media regionale di 10,7 e quella nazionale appunto di 9. Per quanto riguarda appunto alla fine del primo quadrimestre 2023 le denunce di infortunio totali sono diminuite dal 27%, comunque rispetto alla fine dell'aprile del 2022 sempre in Veneto erano 30.816 e ora sono 22.512. Ma questa riduzione secondo l'osservatorio è in realtà dovuta quasi esclusivamente alla scomparsa del covid e delle statistiche appunto legate agli infortuni connessi al covid. Le attività manifatturiere sono ancora in cima alla gradatoria delle denunce di infortuni in occasione di lavoro e sono seguite da costruzioni, sanità, trasporti e magazzinaggio. Da gennaio ad aprile 2023 è sempre la provincia di Verona, quella con il più elevato numero di denunce totali di infortunia. Seguono Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno e Rovigo. Bene, ed ora parliamo del periodico Dati Inail che ha messo sotto la lente di ingrandimento la situazione settoriale del manifatturiero. Da questo risulta che dopo il forte calo del 2020, nel 2021 le denunce di infortunio sul lavoro dell'industria manifatturiera che si contraddistingue per la varietà e complessità di attività svolte sono aumentate del 17,1%, rimanendo comunque su livelli inferiori rispetto al trienno 2017-2019. Nello stesso periodo i decessi hanno fatto registrare una contrazione di 40 denunce ma sul dato del 2020 hanno pesato molto di più le morti legate alle infezioni da Covid-19, quindi di origine professionale. Le 208 vittime del 2021 infatti sono in linea con il dato medio del triennio pre-pandemie. Gli addetti in questo settore, nel settore manifatturiero, sono 3.700.000 a fare il punto della situazione in questo settore produttivo che nel 2021 dava lavoro a un numero medio di 3.700.000 addetti, di cui soltanto poco meno 800.000, quindi il 21% del totale impiegati presso imprese con meno di 10 dipendenti, è, come abbiamo detto, il nuovo periodico dati INA, il curato dalla consulenza statistica ottoriale dell'Istituto che sottolinea una forte vocazione all'export delle imprese manifatturiere che quest'anno esporteranno per la prima volta più del 50% del proprio fatturato. e il ruolo quindi di leader che è spesso esercito a livello europeo e mondiale investendo in innovazione tecnologica e ricerca scientifica per rimanere competitive sui mercati. L'incremento dei casi, andando più nel particolare, ha interessato tutte le attività del manifatturiero, dalla fabbricazione dei prodotti farmaceutici all'industria del tabacco, le attività nelle quali si contano più infortuni e casi mortali sono la fabbricazione di prodotti in metallo, 22% delle denunce, 23% dei decessi di tutto il manifatturiero e la fabbricazione dei macchinari. Gli infortunati sono prevalentemente uomini, 85%, con differenze significative però tra i vari comparti nell'abbigliamento sono meno di un terzo, nella farmaceutica circa il 60%, mentre sono la quasi totalità, quindi più di 9 casi su 10, nella metallurgia e in generale nelle industrie che lavorano minerali e metalli.